Ciao ragazzi, oggi siamo qua in mezzo agli uccelli che cantano fortissimo per raccontarvi come sono finito qua, non come sono finito letteralmente qua qua siamo a Sintra, un paese in Portogallo dove sto vivendo per qualche mese con moglie, figli e figlio e gatto ma per raccontarvi come sono diventato un nomadio digitale cioè come ho deciso un bel giorno di dire ok, io da grande voglio lavorare viaggiando e voglio vivere in maniera, diciamo, diversa per raccontarvi questa storia dobbiamo tornare ad una notte di un sacco di anni fa non so bene quanti di preciso, almeno dieci, siamo così generici durante un turno notturno, perché all'inizio durante il mio primo lavoro io facevo i turni lavoravo di notte, lavoravo al mattino, lavoravo nei weekend, lavoravo nelle feste, capodanno era un casino, facevo l'operatore informatico, ovvero una sorta di primo intervento mettiamola così, su server che cadono, database che si distruggono succedeva qualcosa di notte, intervenivo io, così, per capirci mi ricordo in questa notte fatidica che stavo cercando come sempre modi per uscire dai turni non per lavorare da remoto, volevo solo uscire dai turni perché era il mio chiodo fisso quindi studiavo, prendevo certificazioni e cercavo finché a un certo punto penso mi sia capitata la storia di qualcuno sotto gli occhi e mi appare questo termine che non avevo mai sentito, nomade digitale scopro l'esistenza dei nomadi digitali e da lì vado penso a finire sul sito nomadidigitali.it diciamo il sito principale che raccoglieva già un po' di storie, esistevano già un po' di casi di nomadi digitali anche in Italia e lì mi esplode il cervello, cioè io scopro che esistono dei lavori di vario tipo, blog, traduttori, insegnanti online ma soprattutto esiste la possibilità come programmatore che era qualcosa che io sapevo fare, avevo studiato a scuola e in qualche modo ovunque lavoravo nell'informatica quindi ci bazzicavo in quel settore e con quel lavoro io potevo vivere letteralmente dove mi pare potevo andare in qualunque posto del mondo e non solo sarei uscito dai turni ma sarei uscito dall'ufficio e questa cosa mi ha mandato in fissa completa. Da lì ho iniziato praticamente a vivere due vite parallele, una era la vita da dipendente, nel frattempo poi sono uscito dai turni e ho iniziato a cambiare lavoro per cercare di essere sempre di più in ambito di programmazione pura, per me la programmazione oltre che essere sempre stata una passione e quindi ho avuto anche questa spinta nel tornare a fare il programmatore a tempo pieno ma in più per me era il modo migliore per trovare lavori poi da remoto perché scoprivo tutti questi siti da freelancer, mi ricordo Upwork che all'epoca aveva un altro nome che non ricordo, freelancer.com c'erano questi siti dove potevi fare dei lavori di programmazione quindi io dovevo imparare il più in fretta possibile quindi cambiavo lavoro per essere sempre di più programmatore e in parallelo di notte, di sera, nei weekend o in qualunque momento possibile oltre che studiare studiavo qualunque cosa mi capitasse a caso completamente a caso quello che facevo era cercare e ho iniziato ad avere lì dei primi lavori da freelancer quindi il sito per un amico mi ricordo un sito vetrina all'inizio poi un sito di un e-commerce poi un gestionale, è arrivato questo gestionale che non avevo assolutamente idea di come fare poi era in wordpress quindi era un po' un delirio andiamo di qua e intanto io cammino non vi preoccupate tutto questo per cercare di mettere soldi da parte avevo questo chiodo fisso di più soldi ho da parte più avrò questa possibilità poi di provare a licenziarmi questa era l'idea e in più imparavo e diventavo tecnicamente un programmatore a questo punto una persona normale cosa avrebbe fatto avrebbe aspettato di avere abbastanza entrate perché nel frattempo avevo affitto e tutto quindi avere abbastanza entrate dal lavoro da freelance fatto da remoto per lasciare il lavoro da dipendente essere così e poi decidere della propria vita fare il nome digitale qualunque altra cosa ma ovviamente io non sono normalissimo e tra i vari errori che ho fatto c'è stato anche quello di dire basta sono arrivato l'esasperazione ho messo da parte un tot di soldi che mi permettono di avere un anno circa così di sicurezza mi licenzio senza avere in realtà entrate continua ma avevo pochissime entrate da freelancer e quindi ho corso un bel rischio corso un bel rischio ero arrivato da dipendente per me a un punto massimo nel senso che facevo il full stack developer in una startup quindi ambiente giovane tecnologie nuove e classica startup con il biliardino in pausa pranzo si giocava a ping pong c'era la playstation si facevano feste era quello che per molti era un ambiente ideale per me era un problema per me l'idea al mattino di andare di alzarmi mi alzavo presto comunque ma l'idea di essere obbligato ad andare in un posto per me era proprio contro la mia natura ecco una cosa che in questa storia che spero passi in questa storia è che la cosa più importante per me è stata capire conoscere meglio una parte di me non tanto l'idea di poter viaggiare avere l'etichetta di nomade digitale ma capire che per me era fondamentale avere il controllo della mia vita siccome il lavoro era così è così invasivo nella nostra vita occupa un sacco di tempo il fatto di non avere la possibilità di scegliere nello spazio nel tempo in cui svolgere il mio lavoro per me è qualcosa che crea un problema e quindi è questo il motivo di questa spinta che in questi anni che vi sto raccontando mi ha dato la forza di dire devo studiare devo lavorare lavoro di notte devo fare più possibile perché era una parte presente dentro di me quindi quella notte in cui ho scoperto che esistono i nomadi digitali semplicemente ho capito ho scoperto una parte di me che volevo uscire in qualche modo quello che succede quindi che a un certo punto mi licenzio non ho lavori per qualche mese vado in panico completo vedo solo il mio conto che si abbassa e dopo anni e anni di risparmi fidatevi non è non è bello però le cose piano piano iniziano a girare soprattutto con le relazioni che negli anni avevo fatto senza alcun obiettivo quindi persone che avevo conosciuto ex colleghi le cose iniziano a girare e la clausola che metto delle persone che vogliono offrirmi qualche lavoro è non mi vedrete io lavoro da remoto e prima della pandemia questa cosa era difficile da far capire perché non se ne capiva neanche il motivo per me era una cosa questione di vita di morte per le altre persone era il ma in ufficio stiamo così bene si lavora meglio non puoi lavorare fuori dall'ufficio e sono contento nella sfiga della pandemia che questa cosa si sia un po diffusa questa questo beneficio del poter lavorare in questo modo quindi le cose hanno iniziato a girare ho iniziato a viaggiare ed eccomi qua quindi adesso oggi nel frattempo c'è stata la pandemia che mi ha tenuto bloccato ma anche aperto le porte del lavoro da remoto come dicevamo e soprattutto nel frattempo io ho avuto anche un figlio e quindi le cose potevano cambiare sono cambiate però come famiglia questo poi è un discorso diciamo un pochettino più complesso ma per chi è più facile quando si è più giovane si è single decidere di fare questo stile di vita così come famiglia deve essere intanto una decisione presa in comunione in completa comunione deve essere qualcosa perché comunque è uno stile di vita anche impegnativo con un figlio è diventa tutto molto più impegnativo e lì capisci penso anche che che tipo di stile di vita vuoi avere e ripeto per me arrivato ad oggi non è importante dire faccio il nomade digitale vado in giro lavoro alle canarie vado in thailandia non me ne frega assolutamente niente quello che non faccio mai troppi video su as mi trovo qua mi trovo là perché per me è solo bello esserci ma ritengo che ognuno abbia poi la propria le proprie scelte di vita migliori per me l'importante per me ed è quello che ho capito da quella notte lì in poi è semplicemente che per me è fondamentale la libertà è qualcosa che ho sempre sentito però è qualcosa che spesso quando si trova immersi nel mondo del lavoro soprattutto si danno per scontate alcune meccaniche prima della pandemia lavorare da remoto era veramente una cosa astrusa per molti era sbagliata provandola molti hanno capito che può esserci una via differente questo vale un po per tutto per me adesso importante semplicemente trasmettere che le cose si possono fare anche maniera diversa che non c'è per forza giusto e sbagliato che non bisogna per forza vivere andando in giro per il mondo è quello è figo e se stai a casa è brutto che non è è bello anche magari costruire una propria realtà all'interno di un'azienda come dipendente cioè ognuno deve cercare semplicemente di esplorarsi conoscersi meglio e questo è quello che ho fatto in questo percorso che è nato come un cavolo io invece che stare qua dentro di notte nelle feste posso lavorare con l'uptop di spiaggia è nata così ovviamente poi molto più giovane e negli anni è diventata un è una continua ricerca della propria serenità per me è una continua ricerca viaggiare per me essi è sinonimo di ricerca quindi anche un motivo per cui continuo a farle continuiamo a farlo come famiglia però non bisogna lasciarsi fermarsi all'etichetta di dire voglio fare il nomade digitale viaggiare cosa che è bella ma piuttosto bisogna cercare di esplorare e magari fare un po di tentativi per capire qual è la cosa che può può essere più adatta ad ognuno di noi questa è un po la mella paternale che è venuta fuori in questo video per me è stato un processo molto molto lungo che ovviamente ancora in progress ma è quello che spero sia evidente che ho commesso un sacco di errori in questi anni quindi non c'è un percorso veramente lineare ho commesso un sacco di errori nello studio della programmazione e anche nell'approccio al lavoro poi diciamo da freelance che all'epoca era il modo per diventare diciamo nomadi e vivere lavorando da remoto oggi tutto è cambiato è cambiato anche per me è cambiato l'approccio a tutto questo come ben sapete come vi ricordo sempre sto appunto preparando un percorso per aiutare tutte le persone che vogliono fare qualcosa di simile a quello che ho fatto io ovvero lavorare da programmatore e soprattutto poi poter sfruttarlo per vivere in libertà ecco invece che parlare solo di nomadismo digitale parliamo di libertà a 360 gradi vedete la voi come vi pare e sto preparando questo percorso vi lascio il link descrizione in cui cerco di riassumere tutto quello che ho imparato in questi anni perché vi dicevo ho sbagliato l'approccio allo studio ma ho imparato dagli errori qual è il modo più efficace probabilmente per raggiungere questo tipo di risultato quindi se vi interessa vi lascio link in descrizione a prescindere fatemi sapere cosa ne pensate del video nei commenti cosa ne pensate di questa riflessione così molto larga che ho fatto nel raccontarvi il mio percorso spero di non avervi annoiato troppo perché è arrivato fino qua ci tenevo ci tenevo a fare un video un po così più chiacchierato magari ce ne saranno altri in futuro vi farò vedere adesso sto andando al co-working qua dove lavoro diciamo qualche ora al giorno vado un po a casa a volte mi fermo qua al parco o altri parchi dipende vi farò vedere anche magari un po una giornata tipo per darvi un po l'idea che alla fine è bello ma è fattibile per chiunque voglia semplicemente vivere una vita un po diversa adesso le possibilità ci sono quindi è meglio sfruttarle come sempre grazie a tutti ci vediamo al prossimo video